Auguri di buon anno a tutti i pellegrini! Auguri! Questo 2020 è iniziato così, con tutti i buoni propositi, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. È stato un anno difficile, siamo stati messi tutti a dura prova, costretti a convivere, chiusi in casa con il timore di non farcela, così come tanti purtroppo. Sopraffati dal coronavirus, abbiamo vissuto nella solitudine, rinunciando al contatto e al calore del fratello, al sorriso che scalda i cuori, lontani dalle famiglie e dai propri cari. Ma noi, pellegrini di Maria, abbiamo cercato di restare uniti, nonostante le distanze. Ci siamo ritrovati settimanalmente con le dirette Facebook, per pregare insieme e cercare di trasmettere un po' di pace in questo periodo molto turbolento. I nostri scenacoli non hanno mai smesso di ritrovarsi spiritualmente e tuttora ci si ritrova attraverso i mezzi telematici per sostenere soprattutto chi è nella disperazione per le diverse conseguenze causate da questa pandemia, conseguenze di vario genere, soprattutto quelle spirituali. Ma la speranza in noi non vuole morire. È tanta la voglia di ritornare a vivere, il desiderio di tornare a sorridere, rivedere i fratelli senza barriere e vincoli e tornare a condividere con tutti voi momenti di emozioni vive e pure. Questo è l'augurio che noi pellegrini di Maria facciamo a tutti voi e a tutti noi, che sia un 2021 ricco di una vita a colori. E allora... Auguri! Di! Buon! Anno! A tutti! I pellegrini! Auguri!